Quando finirà questa storia? Presto. Mio padre va a far quello che gli spetta e tu potrai abbracciare il tuo. Mio padre è l'unica cosa che non mi manca. E anche il mio mi mancherebbe. Al mio paese sono cresciuto chiuso in casa con tre uomini armati alla porta. Ho smesso di andare a scuola a undici anni. Mio è un amico. Mio è una ragazza. Una prigione. Come questa. Sei un uomo. Potevi scegliere. Il sangue, Agatha. Lo senti scorrere dentro di te. Più tu odi tuo padre, più il sangue ti tiene stretto a lui. E' vero. Ma il sangue non è una condanna. è un uomo. Giù. Giù. Grazie a tutti